Musica Bella a tutti ragazzi, sono Shark e sono tornato qui con questo video di finalmente l'attesissimo Call of Duty Ghost Niente, siamo qui oggi con una uccisione confermata in Prison Break, non so che mappa è Ah no, ci ho giocato solo una volta E niente, siamo qui con alcuni miei amici del mio clan e anche non Di cui i due fanno video su Youtube, uno è Danimus, l'altro è Fenix, non mi ricordo il nome E metterò solo il canale di Fenix perché è un grande, invece Danimus è uno stronzo e non lo metterò Quindi accetta, accetta, accetta lo Danimus E niente, comunque cominciamo questa bella partita, finalmente ragazzi il day one Cioè sono andato a prendere Ghost in un GameStop e dicono no non lo puoi prendere, esce domani E poi, vabbè, un mio amico è andato a prenderlo a Saturn e ce l'hanno dato quindi Grazie mille, che oggi ci posso almeno giocare no? Quindi, cioè, è una cosa bellissima Sto facendo delle partite davvero, davvero molto power Prima sono morto a 22-0 Cioè, stavo due kill e prendevo la cam Cioè, vi rendete conto? Olè, olè, primo sangue Si va benissimo, va benissimo ragazzi Oddio, oddio Ok, 2-0 Procediamo così Procediamo così Ok Qui ci dovrebbe essere qualche stronzo No, non c'è Ok, non stiamo in posti così cazzo Olè, stronzo, come volevi mettere il culo? Non ce l'hai fatta Pezzo di merda Tanto lasciate un like per questo video Tanto atteso ragazzi, c'era comunque Ghost Mi sembra davvero carino Anche la grafica un po' migliorata E migliorerà ancora sulla next gen Oh, dicevo il Satcom Quindi, cioè, lasciate un bel like Ecco qua Andiamo qui 3-0, perfetto Facciamo una bella granata random Olè, olè Oddio, 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 oddio Ostia Ok, andiamo da qua perché Me la vedo un po' dura da quella parte Quindi, vediamo un po' qui che si può fare Comunque sto giocando con Fagots Danimus Fenix Alex E l'altro è uno random Quindi, un bel like per questo gruppo Paua Olè, olè Kill, kill Scappiamo, scappiamo, scappiamo Poi magari faccio un video su delle classi molto Cioè, delle classi buone Oh, oh, oh No, 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 oh, cane, cane, cane Dai Comunque farò magari un video Comunque questa classe è davvero molto forte Ragazzi, l'ho provata Non so che arma, come si chiama quest'arma Però è davvero fortissima Infatti ci ho fatto quasi la cam Quindi ragazzi, davvero provatela Non so come si chiama Non so come si chiama Ve lo dirò dopo magari E comunque Davvero molto buona Ci ho messo Tipo Oddio il calcio Anteriore Oddio, che camper Chi è stronzo Non lo ricamperà Ok ragazzi Sto a 7-0 Cioè, può essere un tentativo di camming live Anche se non ci riuscirò mai Proprio mai nella vita E niente, comunque Vediamo un po' Oh, non lo vedo Non è quello? No Comunque le mappe sono anche abbastanza belle Cioè, sono però dei 2-3 No 3-4 5 magari Non so, non mi ricordo Oh, stai qui Olè Oh, stronzo Overpower ragazzi Shark overpower Proprio overpower Vediamo un po' che si può fare Anche se sto camperando un po', regà Cioè, alla fine Io voglio prendere la cam Proprio la prima volta Alla fine, boh, non sto camperando Cioè, li sto cercando Perché se no li trovo non è colpa mia E' un po' qui che si può fare, eh Ah, ma sto a prendere Il jugger Dai, regà No, porco 2 Le munizioni scarse No Dai, jugger, regà Jugger, jugger Dai Con questo si può prendere benissimo la cam, ragazzi Se vado in serie con il juggernaut Ormai, cioè Fila un po' più il tutto liscio Perché comunque Avendo il juggernaut Ecco, porco 2 Adesso dobbiamo aspettare Senza non Senza morire Questo jugger Molto prezioso Questo che mi fa Mi farà Fare una bella streak, ragazzi Ok, eccolo Olè, olè Dai, hai preso, ragazzi Ok, perfetto Un bel like per questo jugger Proprio così random Preso Così, proprio Oh, dove sta? Stava qui, ragazzi Oh Bastardo Pezzo di merda Ok, ragazzi Perfetto Comunque avevo in mente Di fare un contest Praticamente Chi vince Vince Un 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 BG Oddio Stia No, no, no Ok, morto No, sono morto 12-0 Vabbè Sciala, regà Tanto è una partita random Così per farvi vedere Com'è il gioco Comunque Vediamo un po' che si può fare ancora Stai qui Stai qui Ops No Dove è andato lì Mastardo Comunque ragazzi Lasciate un bel like Non so quando uscirà questo idioma Però penso Martedì Perché il prima possibile Voglio farlo uscire Vorrei farlo uscire anche Oh, cecchino Oh, no, no, no Cecchino Eccolo Perfetto No, questo mi sa che fa schifo Comunque Volevo farlo uscire Il prima possibile Perché Praticamente Diciamo Volevo essere uno dei primi A caricare Un video No Bastardo Comunque Vediamo un po' Vediamo un po' Stai qui Oh, dove sta? Oh, ho visto un cecchino Eccolo Questo ragazzi È il mio cecchino preferito Cioè Regà Guardate come ho ucciso Bene Se trovo qualcuno Magari Porco Di me fa un favore Prima stavo a fare tipo Un botto di Wixcope Con questo Davvero Mi sa È il cecchino più forte Che c'è Oh Dove stanno? Sono scomparsi Cioè Erano Un or Già qui No E me lo frega E me lo frega Cioè Uno Regà L'overpower Due Cioè Regà Non so se Stavate capire Che sto Fanno a strage Poi c'è pure col cecchino Poi Overpowerità Almeno so che si Di stessa parola Però vabbè Di sto cecchino È proprio Overpower Eccolo 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 Oh No E me lo frega E me lo frega Tanto questo accento Molto Molto sexy Vediamo se c'è qualche Preda Olè 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 Ragazzi Voglio 30.000 like Per questo gameplay Overpower Oh No No Cioè No Non è possibile Guardate Guardate Che schifo Proprio una random kill Cioè Stavo io Oh Tanto Satcom di merda Che non ho capito ancora Come Diciamo Come Viene usato Perché Sinceramente Dovrebbe essere un OV Ma È una sottospecie di OV Perché non funziona come un OV O intanto Kill Kill Perfetto Oddio 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 Ostia Oddio Eccolo Eccolo Ecco Ti pareva Comunque Quanto sto 17.4 Fagots 27 Vabbè Scialla Stai qui Ti ho visto Ti ho visto sul radar Ti voglio killare con la pistola Olè Olè Ci riesce Oh Missione Ok perfetto Eccola Comunque Questa valigetta Praticamente Chi la prende Praticamente Deve fare una missione Vedi La in basso a sinistra Una missione Uccide un nemico con esplosivo Non serie di uccisioni Ok Devo ucciderlo con una granata E mi darà Missione completata E mi consegnerà Un approvigionamento Gratis Cioè Facendo quella missione Mi darà un approvigionamento In quell'approvigionamento Potrò trovare Anche Oddio Ecco Ultima kill Potrò trovare anche Un La chem Che sarebbe Tipo la mob E niente Però è molto raro Trovarla Infatti Io trovo Tutte cazzate Intanto Last kill Di the shark Boom 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 Ragazzi Overpower Un bel 24 Cioè Non me l'aspettavo Comunque Lasciate un bel like Intanto Ve lo ripeto sempre Perché praticamente Chi non lascia il like E non commenta Per tanto tempo Sul canale Praticamente Youtube Non gli fa uscire I video Nei feed Cioè Quindi non vedrete I miei video Quindi lasciate un bel like E ve lo ripeterò sempre Intanto Compriamoci un bel caricatore Di qualcosa Questo Perfetto Allora Che possiamo comprarci ancora Un cazzo Eh no Niente Qua che mi compro Letale No Non mi va Di comprare Qualche niente Qua Specialista Intanto Cioè Vabbè Non mi dispende I soldi Sì I punti Ok Perfetto Ecco Questa qua Onei Bad Gear Cioè Regà È una bestia Starma Non potete capire Quanto è bestia Comunque Ci facciamo un'altra partita Perché Perché Sì Perché Sì Anche Anche La modalità Cranked È una cosa Stupenda Cioè Non puoi camperare In questa modalità Praticamente Devi correre Per 30 secondi Cioè 30 secondi di tempo Per uccidere un nemico Dopo esci Ah ma è stata Ma di uscire Infatti sì Regà Ah Vabbè Ascialla Comunque Aspettate un attimo Che Vedete un attimo Che vogliono Registro pure Un paio di passi Regiamenti Sono Lenti Sono Lenti Poi Vi potete Personalizzare Il personaggio Potete Metterlo O femmina Un maschio Uccisione confermata Ma Abbandono No 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 Dai Resistiamo qua Su uccisione confermata Non so perché Uccisione confermata Però vabbè Poi devo mettere Cranked Ma Lascialla Va bene pure questa Comunque Mamma mia Regà Cioè sono le Le undici e mezza Mi sa Non Sì sono le undici e mezza Di notte Questo video proprio Lo voglio fare uscire Il più Cioè il più presto possibile Perché Perché sì Ormai Cioè mi piacerebbe Questo gioco Regà Mo Black Ops 2 Lo vado a buttare Nel cesso Proprio Intanto Prima kill Per The shark Oddio Ho le Ho le Seconda kill No eh No Hai esci fuori Pezzo di merda Stai qui Lo so che stai qui Oh l'ho visto L'avevo visto Brutto Pezzo De merda Ok Mi sa Ecco Mi sa che l'ho vista No io Vedo le persone E le persone Scompaiono Così proprio Random Niente Mi sa che sta Olè 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 Mi spiace Oh Olè Olè Colpo alla testa Intanto Satcom Satcom E Andiamo giù Andiamo giù No No Stia bitch Mamma mia 3-0 Mi uccide Mi killa Quel nabbo E mi killa Mortacci Dove ho fatto venda in colpo Tacci Intanto Vediamo un po' Che si può fare Scusate un attimo Allora Vediamo un po' Poi sta mappa L'ho giocato Due tre volte Davvero molto carina Ah poi c'ho pure freefall E' vero Me la devo scaricare Me la devo scaricare Quindi Mi sa Oh Oh Stai qui Stai qui Ti ho visto eh Oddio Eh Mi dispiace Mi dispiace sei morto Esci Oh Stava qui Regà Vabbè 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 Non c'è Pazienza Ok Dove stanno Sti pezzi di merda Oh non sto a fare niente Mamma mia Che palle Le palle Proprio quelle là Che ti cadono Satcom Che ho detto Non ho sentito Perché sto giocando Praticamente col volume A A A Uno Stanno tutti dormendo Ti pareva Da dietro Oddio Vediamo un po' Vediamo un po' Alche altro Oh stronzo Oddio Eccolo Eh ti pareva Giusto Lui Lui Cioè Lui nemmeno mi vede Mi killa Cioè Lui Niente Mi sfiora con Un piorogliettile E mi uccide Ops Ti ho ucciso il cane Oddio Cioè Non ci sto a credere Sempre questo Sempre questo Non ci sto a credere Vabbè Mo Mo Basta Mi ha rotto un po' Il cazzo Eh Mi ha un po' Rotto il cazzo Dove stai Pezzo di merda No È mio È mio Oh Qua sta qua Sta qua Sta qua Perfetto O Ole 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 Camperiamoci un attimo Oh Perfetto E negala Nabbo Ok Ragazzi Perfetto Cioè Domani Ci saranno 300 miliardi Di giocatori online Quindi penso che la connessione Andrà puttane Oddio 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 No Quindi Approfitto un attimo Di questo Di questo Di questa occasione Che ho Di averlo un giorno prima Oddio Oddio Ok Perfetto Perché comunque Cioè Se domani magari C'è qualche problema La connessione non va Devono risolvere Quindi Non avrei nemmeno il tempo Di fare un video Quindi Lo faccio oggi Che praticamente Ho tutto il necessario Tutto il materiale No Beh Il necessario no Che cazzo Dì Diciamo che Ho la possibilità di farlo Quindi lo faccio Oh cazzo Dove stai Oh stava qui Cioè non si capisce Niente cazzo Di sto coso Oh Vabbè Stava lì Ora sta qui Ma che cazzo Fai Oddio Oddio Eccolo 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 Sia Eh 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 Ah beh Sta qui Sta qui Sta qui Sta qui Sta qui Oh dai Ti avevo visto Niente oh Oh sta qui Sta qui Sta sotto Sta sotto Sta sotto Oh Ma vi l'hai del cazzo Porca puttana Sempre tra le palle Eccovi Eccovi Dove sta Dove stai Piccolo Oh Oh Me lo segnala qui Me lo segnala Ah sta sopra Mi sa Eccolo Oddio Ostia Oh Eh ti pareva Me lo frega Fenix Ti pareva Ti pareva Andiamo Andiamo un attimo A cercare altre prede Eccolo Mi rifericano tutte le piastrine Vedo una piastrina No eh Lui è quello Me la frega Con un uomo davanti Vabbè Vabbè Eh eh Stronzi eh Comunque guardate i video In 720p Cioè io li faccio in HD Vi offro la possibilità Di vederli in HD E voi che fate Brutti stronzi Ve lo vedete In 360p Cioè Stai proprio infami Ok niente Oh un'arma Voglio provare quest'arma Oh Ma che è Oddio Un mitraglione Proprio da nabbi Camperiamo Con il mitraglione Vai Lezione camper numero uno Ole Come camperare Ecco vedete Questo Camperaggio estremo Dai uscite Sto camperando Ma che schifo camperare Porco Due Saranno tutti qua Guardate Ci scommetto l'anima Ci scommetto La mia ghost Ci scommetto Il fantasma Ecco Guardate che Mi chila qualcuno Oh Ole Allora Umilia il prossimo Nemico che uccidi Eh Quindi devo ucciderlo Da dietro Dove sta Dove stanno Dove stanno Oh ma che quanti siamo Mamma mia Oh Non sto a fare una kill Ci vostra Tacci Oh sta qua sopra Sta qua sopra Vai Uno Due Tre E le Boom E non Non lo ammazzano Pezzo di merda Infame maiale Mortaci Tua Uno Oddio La nega La conferma No Mamma mia Oh fa cozza di merda Che me le frega Ma che sto a fare Spara Alla sedia Spara Mi dicono che Poco ritardato Cazzo di merda sta qui No Stai qui Ecco di Ole Ole Finalmente Finalmente Una kill Oh Andiamo 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 Ole Ole sta qui Sta qui Sta qua sotto Sta qua sotto Ole Oddio Satcom Satcom No Ma dove la tiro Dove la tiro Ci credo Adesso No Mi finisce la sopra Porco Dinci Mannaggia Ecco Mi uccide pure Mi uccide Vabbè Sciala Tanto L'approvvigionamento è andato fottuto Proprio Fottuto Sciala Era pure un Satcom Di merda Quindi Non ho perso nulla Ecco Ecco Eccolo Il pezzo Di merda Comunque no Voglio andare un po' Col cechino Però non ce l'ho Questa è una cosa bella C'è la verità Mi rendete conto Guardalo Guardalo Pezzo di merda Ole Uccidi un nemico Con un esplosivo No se Ah beh Sciala Questo non lo farò mai Come missione È impossibile Il video Starà durando tipo 20 minuti Però sti cazzi Cioè È È code ghost Cioè Accettatelo Ole Ora me la paghi Cioè poi È stupendo Questo gioco Ragazzi È stupendo Lo dico io Compratevelo Mi piace un botto Quindi Proprio Overpower No qua non ci stanno Eccolo 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 Ole Questa festa Statcom Statcom Attiviamo sta merda Ole Neghiamo 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 Ole Negata Negata Vediamo un po' Qua che si può fare Allora Eccoli 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 Ti ho visto Ti ho visto Non mi sfuggi Ti parevo Ti parevo Beh Dammi la piastrina Intanto Grande Intanto Prendiamo il coso da camper Ancora di nuovo Ancora di nuovo La grammatica Proprio Overpower Allora Vediamo un po' Che si può fare Con sto mitraglione Da camper Oh stava qui Stava qui Avete visto pure voi Sto fio De nato Ballerina Ok niente Ragazzi Vi invito a lasciare un like Un commento A iscrivervi al canale Se non l'avete fatto E niente E niente ragazzi Io vi lascio Con questa ultima kill E niente Continuo a giocare a ghost E voi Intanto state a scuola A studiare Oppure state a casa Senza ghost Oppure adesso In questo momento Avrete ghost Perché state guardando il video Di pomeriggio Quindi Quindi me l'avete messo al culo E niente Quindi niente Bella ragazzi Alla prossima video Ciao